benvenuti nella cucina della redazione di cook oggi sono con noi alessandro negrini e fabio pisani del luogo di aimo e nadia due stelle michelin a milano buongiorno a tutti ciao cosa andiamo a preparare oggi oggi prepariamo una crema di cicerche quindi l'ingrediente principe e la cicerchia e abbiamo il coccio il coccio che è una cottura così antica che proviene proprio dalla terra di fabio che noi abbiamo riportato a milano e anche nella nostra cucina del ristorante proponendolo ai nostri clienti scopriamo in un minuto come preparare il piatto grazie a tutti ma che storia questa ricetta noi facciamo molta ricerca sviluppo per noi piace molto il rapporto umano con i nostri fornitori un giorno a milano al luogo di emenadi e ci arriva un pacco con dentro questi ingredienti e così con alessandro ti ricordi sai in italia abbiamo talmente tante diversità e ad aimo e cerchiamo di raccoglierle e questo è un piatto che sembra della cucina pugliese ma in realtà non è della cucina pugliese quindi noi abbiamo interpretato gli ingredienti facendo un nuovo piatto di cucina pugliese beh non ci resta che provare a rifarlo a casa grazie agli chef per essere stati con noi e a voi per averci seguito ciao 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 Grazie a tutti.